La fattoria di Topolino e Paperino Nella casa di Topolino è in arrivo una grande sorpresa e Topolino non vede l'ora di condividerla con i suoi amici. Per prima cosa va alla macchina magica a prendere gli strumentopoli. «Tisca, tusca, strumentopoli!» esclama Topolino. Toodles gli mostra gli strumenti che serviranno in questa nuova avventura. La mano da pesca, la felpa volante, una coperta soffice soffice e lo strumentopolo misterioso. Poco dopo Topolino e i suoi amici si ritrovano in un grande prato. «Aiuto!» grida subito Pippo. È salito a bordo del trattore clic-clac. Ha avviato il motore ma non sa più come fermarlo. Paperino si mette subito all'opera. Lancia la sua corda verso clic-clac, afferra la leva rossa dello stop, la tira verso di sé e ferma il trattore. «Ben fatto, Paperino!» dice Topolino. «Così siamo arrivati proprio dove volevo portarvi. Benvenuti nella nostra fattoria!» Qui Topolino e Paperino coltivano alberi da frutto, si occupano dell'orto e allevano animali e soprattutto si divertono un mondo insieme ai loro amici. «Guarda che bella fattoria!» «Ia ia ho!» «È proprio una grande fattoria!» «Ia ia ho!» «In questa fattoria c'è posto per chiunque voglia dare una mano e infatti Minnie e Paperina sono già al lavoro nel frutteto. Guardate quante mele abbiamo raccolto» dice Paperina. «Sono una vera delizia!» Improvvisamente un vento fortissimo comincia a soffiare. Fa volare le mele, spazza via le pannocchie dai campi e trascina in aria persino gli animali. «Reggetevi forte!» grida Topolino ai suoi amici. Ma il fischio del vento è così potente da coprire la sua voce. Non riesce invece a coprire un insolito rumore che giunge da poco lontano. «Forza ragazzi!» dice Topolino, saliamo tutti sul trattore e andiamo a scoprire da dove arriva questo strano rumore. «È il mulino a vento di Pietro!» grida Pippo poco dopo. «Scusatemi per tutto questo vento» dice Pietro quando vede arrivare Topolino i suoi amici. «Ho usato le pale del mulino per scacciare gli insetti dalle mie petunie» spiega. «Ma adesso perché non lo spegni?» gli domanda Pippo e Pietro sospira. «Non mi ricordo più come si fa». «Nel trattore la leva dello stop è quella rossa» si ricorda Pippo. «Allora proviamo» dice Topolino. Pippo abbassa la leva rossa. «Funziona!» Il vento si è fermato. «Grazie ragazzi!» Pietro saluta i ragazzi diretti verso la fattoria. Arrivati a destinazione però gli amici scoprono che il vento ha scompigliato tutto. «Che disastro!» «Sono spariti gli animali» dice Pippo in credulo. «Sono volati via come fossero uccellini». «Dobbiamo trovarli al più presto» replica Topolino. «Guardate dove è finito il pony» esclama Paperino indicando il tetto del granaio. «Che cosa facciamo se almeno potesse volare?» «Oh toodles!» chiama Topolino. «Quale strumentopolo può aiutare il pony a volare giù dal granaio in sicurezza?» «Ma certo la felpa volante!» «I maialini invece sono finiti lassù nel pollaio» indica Paperino. «Ops! Anche loro hanno bisogno di aiuto!» «Oh toodles!» chiama ancora Topolino. Ed ecco che compare lo strumentopolo perfetto per atterrare senza farsi male una coperta soffice soffice. «Avvicinatela allo scivolo e reggetela bene» dice Topolino agli amici. «E uno, due, tre, tre!» «Tutti i maialini scivolano fino a terra sani e salvi!» «E ora riportiamo il pony ai maialini nei loro recinti» esclama Topolino salendo insieme a loro sul trattore clic-clac. «Ma anche le galline di Clarabella sono scomparse!» «Dove siete?» grida lei preoccupata. Topolino ha un'idea. «Le tue galline amano cantare! Cantiamo tutti insieme e vedrai che anche loro si uniranno al coro!» «In questa bella fattoria, ia ia oh! Ci sono tante gallinelle, ia ia oh!» «Immediatamente le gallinelle balzano fuori dall'erba alta!» «Grazie Topolino!» esulta Clarabella super felice. «Aiutare gli amici è la cosa più bella che ci sia» dice Topolino sorridendo soddisfatto. «Ma c'è ancora qualcuno che ha bisogno di aiuto!» «Muuu!» si lamenta la mucca. «Poverina! È rimasta incastrata nell'altalena come un tappo dentro un collo di bottiglia!» «Oh, toodles!» chiama Topolino. «La mano da pesca è lo strumentopolo perfetto per bloccare il dondolio del copertone e tenerlo fermo mentre la mucca prova di vincolarsi». «Brava!» dice Pippo quando la mucca salta fuori con un botto e finisce fra le sue braccia. «Ben fatto!» aggiunge Topolino. «Ora riportiamola nella stalla». All'improvviso il cielo si copre di nuvoloni neri. Tuoni e fulmini annunciano l'imminente arrivo di un brutto temporale. «Oh no! Come faremo a proteggerci?» esclama Topolino preoccupato. «Oh, toodles!» chiamano tutti. L'unico strumentopolo rimasto è quello misterioso. «È il mulino a vento di Pietro!» esclama Topolino. «Ma è quello che ha fatto volare via gli animali!» osserva Pippo. «Sì, ma ora spazzerà via i nuvoloni!» spiega Topolino. Topolino orienta le pale del mulino verso il cielo nero, quindi dice agli amici «Accendiamolo!» «Se la leva rossa è quella dello stop!» dice Pippo. «La leva verde è quella che lo fa partire!» aggiunge Paperino. «Infatti, alzata la leva, il vento comincia a soffiare forte!» «Ciao, ciao, nuvole nere!» saluta Topolino!» Alla fattoria finalmente è tornato il sereno. «Nella bella fattoria, ia ia o! Sono tutti sani e salvi, ia ia o!» fine